Ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, oggi un nuovissimo video a tema tatuaggi e mi scuso subito per la mia voce, ma io non so cosa succede nella mia vita che da un anno a questa parte, ormai ogni due mesi, io devo perdere la voce, se no non sono contenta cioè ho avuto un po' di mal di golo, un po' di raffreddorino, ma super leggero ma la voce mi ha abbandonato, però oggi dovevo assolutamente registrare non uno, ma due video quindi beccateveli così, ho messo il microfono più vicino possibile spero mi sentiate, va così, e mi sono fatta pure la coda, non so se mi piace oppure no però insomma non avevo fatto la piega ai capelli, quindi coda comunque come sempre prima di incominciare vi ricordo di iscrivervi al canale, di attivare la campanella di non perdere nessun nuovo video, tra l'altro appena vi iscrivetevi, siamo arrivati a 12.000 iscritti I love you, grazie mille, davvero un sacco, mi supportate sempre, anche nei commenti vi leggo sempre, vi voglio bene e niente, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, continuate ad iscrivervi e seguitemi anche sugli altri miei social, Instagram e TikTok, per restare sempre aggiornati sugli altri contenuti vedere foto, post, storie, eccetera, 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 eccetera avete riferimenti qui e in diretti giù comunque, oggi stiamo qui per fare il tattoo tour aggiornato perché sono andata adesso a rivedermi il video eravamo rimaste a 9 tatuaggi, ora io non so di preciso quanti ne ho non ho idea però spesso su Instagram, anche qui nei video, quando vedete dei tatuaggi nuovi, soprattutto quelli visibili mi chiedete questo video, quindi eccolo qui piccolo disclaimer iniziale, vi prego non iniziate nei commenti a giudicare il tatuaggio che non hanno senso, bla 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 perché ognuno è libero di fare ciò che vuole detto ciò, allora, nello scorso video eravamo arrivati appunto a 9 e l'ultimo che vi abbiamo mostrato era After sulla mano, che l'avevate visto in fase di prima o seconda guarigione adesso non mi ricordo alla fine questo tatuaggio è stato ripassato ben tre volte perché non rimaneva è normale, le mani sono punti un po' delicati comunque se volete vedere i 9, non ve li starò rimostrare andate a recuperarvi quel video e poi tornate a vedere questo quindi niente, l'ultimo che vi ho mostrato è After è stato ripassato ora molto bene, mi piace un sacco la posizione io ho aumentato oggi sulle mani non si direbbe comunque, successivamente ad After non ve li dirò in ordine perché non mi ricordo più o meno, cioè cerco ma non vi assicuro niente ho fatto anche Before abbiamo utilizzato lo stesso font come vi dicevo per After ho preso il font del film After ma non è, ovviamente il tatuaggio non è stato fatto per il film anche ma non solo, ve l'avevo spiegato in quel video con lo stesso font poi siamo andati a scrivere Before questo semplicemente l'ho preso dalla copertina del film questo siamo andati proprio a farlo noi perché non c'è nessun film Before quindi siamo andati noi a cercare il font di questo e abbiamo scritto Before perché mi piace se fosse una continuità e mi piace appunto avere da una parte After da una parte Before secondo me si completano molto molto bene questo qui invece l'ho ripassato solo due volte cioè l'ho fatto e l'ho ripassato mentre questo l'ho fatto, l'ho ripassato e l'ho ripassato questo ho fatto e l'ho ripassato ed è rimasto così molto molto belli ovviamente non sono neri come gli altri tatuaggi ma è normale perché sono punti un po' strani allora secondo me dopo di questi non mi ricordo assolutamente quello che ho fatto quindi vado in ordine a quello che mi ricordo perché sicuramente mi dimenticherò qualcosa parto da quelli che non posso farvi vedere qui tipo una scritta sulla schiena che ho fatto da una ragazza a Urniano che mi piace molto, un metà, un fattino, fatti altri da lei poi mi dirò dove ho scritto di queste cose siano fatte le anime la mia e la sua sono uguali citazioni da after ho molti tatuaggi a tema after e lo vedrete insomma mi piace un sacco il film mi piace un sacco il concetto che c'è dietro quella storia cioè a prescindere dal fatto che loro siano personaggi inventati mi piace un sacco il concetto quindi ho deciso di tatuarmi queste frasi comunque mi piace un sacco è lunga quindi va a prendermi tutta la colonna vertebrale mi piace un sacco il font mi piace veramente veramente un sacco quella scritta mi piace quando ho vestiti scollati sulla schiena che si veda adoro e sempre lo stesso giorno da quella stessa tatuatrice ho fatto una scritta sul fianco dove ho scritto presuntuosa insieme a una mia amica di scuola abbiamo fatto le scuole insieme io e lei ma siamo rimosse un sacco in contatto anche lei lei si tatua da quella ragazza lì spesso e eravamo lì insieme abbiamo deciso di farci questa scritta perché io e lei stiamo un po' così un po' sono bella solo io sono brava solo io ma scherzando ovviamente però è una cosa che ci accomuna ecco e quindi abbiamo deciso di farcela insieme uguale il font tra l'altro secondo me è carinissimo con questa t che sembra una croce adoro sul fianco appunto stra doloroso non avrei mai pensato cioè bruciava da morire cioè se sulla colonna non ho sentito niente perché io in generale sento veramente poco a fare i tatuaggi a parte punti tipo questi mi ha fatto malissimo soprattutto nei ridocchi quello lì appunto sul fianco vedevo di morire dal bruciore e un po' sulle dita ma poi ci arriviamo comunque mi piace davvero un sacco un tatuaggio che si vede solo quando sono in costume perché con nessun tipo di vestito si vede però mi piace un sacco mi piace un sacco l'idea anche di averlo con lei ovviamente continuo con quelli che non posso vedere dei quali vi devo lasciare le foto ho scritto Ardyn in realtà questo è abbastanza recente penso di averlo fatto ottobre novembre comunque scorso ho scritto Ardyn con le due zampine a forma di cuore davanti alla caviglia davanti comunque mi piace veramente un sacco anche il font un po' così giocoso e niente per il mio gatto ovviamente non per Ardyn di After ho chiamato lui come Ardyn di After però il tatuaggio è stato fatto per lui per questo come sulle zampine ho preferito metterci le zampine così che mi ricordava lui e niente è il mio gattino quindi il mio primo vero gatto effettivo quindi ho voluto tatuarmelo in un punto anche abbastanza visibile perché si vede con le sneaker si vede con i tacchi si vede con i tronchetti perché rimane sopra il tronchetto l'unico modo che non si vede con gli stivali però insomma mi piace un sacco che sia lì mi piace veramente veramente tanto poi sempre sulle caviglie ma dietro paralleli ho fatto da un lato lo smalto rosso e da un lato il rossetto rosso ovviamente per il mio lavoro per la mia passione eccetera e mi piace un sacco mi piace un sacco che ci sia il colore ho pochissimi tatuaggi colorati solo quello e un cuoricino qui che vi avevo mostrato nello scorso video e mi piace un sacco che risalta così il rosso l'ho voluto fare i rossi perché è un po' il colore iconico quindi mi andavo di fare quello dal lato appunto lo smaltino soprattutto per il mio lavoro ma è anche una mia passione far le unghie tra l'altro da quando è che mi vedete con le unghie così corte dicelo e dall'altro il rossetto per prendere più la mia passione per il make up però mi piaceva un sacco che erano lì insieme perché le due cose cioè si collegano un sacco e mi piace vederli mi piace davvero un sacco anche questi come stanno per farli ho fatto 10.000 prove perché con i tacchi con le scarpe basse se no quello lì è un punto che si deforma abbastanza facilmente però devo dire che alla fine ci siamo state un attimo a posizionare il disegno però mi piace un sacco anche qui preso ad altezza superiore al tronchetto in modo che se metto degli stivaletti non me lo va a tagliare ovviamente con uno stivale lungo vengono coperti però non mi piaceva l'effetto che con uno stivaletto venisse tagliato a metà allora siamo andati sopra infatti restano leggermente più alti non sono proprio ad altezza caviglia ma mi piace proprio che stiamo così proseguiamo sto pensando raga perché vorrei dimenticarvi questi due ve li ho mostrati ah ce n'è uno qui anche che riesco a mostrarvi penso di sì ve lo mostro qui questa scritta c'è scritto siamo tutti folli in amore con le O a forma di cuore e anche i puntini sulle I sono a forma di cuore mi piace un sacco il punto come sta con le scollature come sta che magari a volte si intraveda e basta anche questa è una situazione presa da After ma presa sempre da poi da vari romanzi e mi piace un sacco mi piaceva un sacco come frase come l'ha detta nel film mi è suonata in testa quindi ho detto no questa frase me la devo tatuare perché mi piace davvero un tanto e questo è un punto che mi piace davvero tanto cioè mi piace che si intraveda quando ho degli scolli che si legga bella mi piace veramente tanto la lunghezza della frase secondo me è perfetta per questo punto mi piace un sacco come è stato fatto e quando non specifico dove li ho fatti perché li ho fatti dalla mia solita tatuatrice mentre tipo quello sulla schiena e quello con la mia amica vi ho specificato che l'ho fatto da un'altra mi piace davvero davvero tanto forse è uno dei miei tatuaggi preferiti addirittura quello bellissimo partiamo da un braccio allora qui vi avevo mostrato le ciglia già praticamente estetica l'ho fatto perché a me piacciono un sacco i tatuaggi sulle mani sulle dita eccetera ho visto questo disegno mi era piaciuto molto fatto e ripassato anche lui mi piace un sacco come sta su questa mano poi ho anche il cuore ma ve ne avevo parlato nello scorso video poi qui abbiamo su questo braccio internamente queste rondini se riesco a mostrarvele allora qui qui è principalmente estetica l'ho visto anche qui da una ragazza su tiktok e anche ardin nel film di after ha questo tatuaggio simile però mi piaceva un sacco proprio come riempimento del braccio perché va a prendermi tutta la parte interna vanno da tre più piccole a tre più gra ah no quattro più grandi sono sette sono tutte proprio piene nere mi piace un sacco anche come guarito perché sono ancora nerissime e non è saltato via neanche un pezzo e mi piacciono veramente tanto questo è semplicemente sia un richiamo al film ma comunque semplicemente riempimento perché c'è la mia idea a quale almeno le braccia di riempirmele bene 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 e quindi in alcuni punti mi ammetti anche dei riempimenti e questo è andato a riempirmi bene anche questo mi piace un sacco cioè più li guardo più mi piacciono quindi non capisco davvero le persone forse sono le persone che non li hanno che dicono eh ma poi ti stanchi no cioè io più li guardo ogni giorno più sono contenta di averle addosso perché sono come un accessorio e un accessorio permanente che mi piace avere un sacco qui c'è un buco quindi presto non andrò a riempire mentre davanti qui ho uno specchio mi piace un sacco questo disegno è uno specchio qui si unisce ancora presuntosa no a parte la mia passione il makeup e tutto ma mi piace molto l'estetica in generale cioè mi piace essere in ordine quando io non sono a posto magari riesco struccata con i capelli sporchi non è per il giudizio degli altri ma è proprio una questione mia che non mi sento a posto con me stessa quindi questo appunto va a richiamare quel lato di me ovvero diciamo anche un po' egocentrica che mi piace specchiarmi mi piace guardarmi ma proprio il tenermi in questo e anche questo bello grande va a riempire tutta la parte davanti del braccio con un po' di sfumature ma leggere perché non lo volevo troppo nero mi piace un sacco anche questo e questo braccio è finito questi due che vi ho mostrato nello scorso video e di qui ci siamo passiamo all'altro braccio allora partiamo anche qui dalla mano vi dicevo appunto before poi ho fatto questo qui per richiamare il fiore di loto molto molto simili mi piace un sacco anche che sia diviso su tutto il dito mi piace veramente veramente tanto anche qui solamente estetica anche questo fatto e ripassato una volta poi qui vedete una farfallina ma è collegato a delle altre che è difficile farvi vedere tanto oggi sulle braccia comunque si parte da una mezza farfalla c'è una farfalla intera un'altra intera e un'altra vista di lato quindi sembra mezza ma è vista semplicemente di lato questo qui l'ho fatto e ho ripassato una volta solo quella sulla mano e quella sul dito che sarebbe ancora da ripassare questa no invece è rimasta molto molto bene questo è prettamente estetico non ha un significato assolutamente ci piace un sacco le farfalle mi piace il concetto che c'è dietro le farfalle però l'ho fatto principalmente per estetica e mi piace un sacco anche che vada sulla mano perché come vi dicevo anche nello scorso video io amo i tatuaggi sulle mani amo vedermeli amo che si vedano quindi mi piace davvero tanto so che la mano ho ancora vista un po' male al giorno d'oggi però a me piace quindi sono contentissima di averlo ho pensato dopo che mi dà problemi quando vorvi gli swatch ci ho pensato dopo questa cosa però insomma mi piace davvero davvero tanto comunque lascio anche di questo una foto così che lo possiate vedere nella sua continuità perché qui è un po' difficile poi qui ho questa scritta che vi avevo già mostrato è stato il mio primo tatuaggio e poi qui all'interno ho queste due new entry qui abbiamo l'infinito di after ovviamente cioè un infinito con all'interno due cuori come potete vedere i cuori sono solo all'interno e non all'esterno perché appunto proprio preso dalla copertina del libro mi piace un sacco è un po' spesso tornassi indietro forse lo farei un po' più sottile sì però mi piace un sacco anche che all'interno sia sfumato e non tutto nero così lo alleggerisce un attimo e volevo farlo tutto nero è stato un consiglio della tatuatrice farlo così e devo dire che lo preferisco e poi qui abbiamo un'altra scritta che è il font secondo me raga è bellissimo ah le farfalle le ho fatte da quell'altra tatuatrice che vi dicevo mentre questi li ho fatti dalla mia e questo secondo me si è proprio superata perché il font è bellissimo e sottilissimo e c'è scritto se due persone si amano non ci può essere un letto fine ma basta e secondo me è bellissimo anche questa è una situazione presa da after ma sempre qui viene da un romanzo e mi piace veramente veramente un sacco può sembrare depressa tanti non la capiscono però secondo me ha molto molto senso questa frase e mi piace davvero davvero tanto e poi c'è l'ultimo tatuaggio su questo braccio che è molto molto grande non riesco ad alzarvi la felpa per mostrarvelo tutto quindi vi lascio una foto fatto sempre da quell'altra ragazza che vi dicevo sono una composizione floreale in stile fine line mi piace veramente veramente un sacco questo tatuaggio essendo molto grosso è il tatuaggio più grosso che io ho ho deciso di farlo da lei proprio perché fa questa tecnica è bravissima nelle composizioni floreali quindi mi sono affidata a lei diciamo per questo motivo secondo me è bellissimo è stupendo forse questo il mio preferito e nonostante riempie tanto il braccio è talmente leggero che mi piace davvero un sacco e nel complesso tutto questo braccio mi piace davvero tanto perché è tutto così a parte questo vabbè è tutto così sottile è tutto così romantico mi piace davvero davvero tanto a livello di dolore io non ho sentito niente in nessuno questo è stato un po' lungo quindi dopo un po' ok le farfalle sulla mano niente cioè uguale alle dita qua sopra mi ha fatto malissimo il ritocco della mano perché già era stato diciamo tagliato andarci sopra ha fatto manino per il resto tutto dolore sopportabile a parte questi davvero la morte e quello sul fianco ora io non so se vi ho mostrato tutto penso di sì perché qui non ne ho vorrei fare qualcosa nell'orecchio qualcosa anche qui dietro alle orecchie ma per il momento non ho niente questi due ve li ho mostrati quello sul fianco ve l'ho detto Ardyn io credo di avervi mostrato tutto ma potrei essere dimenticata qualcosa quindi è il momento foto se mi sono dimenticata qualcosa o ci vedremo nel prossimo tattoo tour fatemi sapere se questa tipologia di video vi piace vi vedo sempre molto curiosi su questo argomento mi fa molto piacere perché è un argomento che mi piace molto e mi va anche raccontarvi e mostrarvi i tatuaggi raccontarvi la loro storia più o meno che c'è dietro come vi dicevo non ha tutto anche il fiore è prettamente estetico ovviamente però qualcosina c'è e fatemi sapere nei commenti se a voi piacciono i tatuaggi se avete tatuaggi e io vi ricordo ancora una volta di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdervi nessun nuovo video e di seguirmi anche sugli altri miei social per restare sempre aggiornati su tutto quello che posso io vi mando un super bacio e noi ci diamo al prossimo video ciao ciao